Esdra, capitolo 7 Esdra era Bisua, figlio di Fineas, figlio di Eleazar, figlio di Aronne, il sommo sacerdote Questo Esdra veniva da Babilonia, era uno scribe esperto nella legge di Mosè, data dal Signore Dio di Israele Siccome la mano del Signore suo Dio era su di lui, il re gli concesse tutto quello che domandò Alcuni dei figli di Israele e alcuni dei sacerdoti dei Leviti, dei Cantori, dei Portinari, dei Netinei Salirono anche loro con lui a Gerusalemme il settimo anno del re Arte Serse Esdra giunse a Gerusalemme il quinto mese nel settimo anno del re Infatti aveva fissato la sua partenza da Babilonia per il primo giorno del mese E arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, assistito dalla benefica mano del suo Dio Poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore E a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine Ecco il testo della lettera data dal re Arte Serse a Esdra E a Esdra, sacerdote e scriva, esperto nei comandamenti e nelle leggi date dal Signore a Esdra Arte Serse, re dei re, a Esdra, sacerdote e scriva, esperto nella legge del Dio, del Cielo, eccetera eccetera Io decreto che nel mio regno chiunque del popolo di Israele, dei suoi sacerdoti, dei leviti Sarà disposto a partire con te per Gerusalemme, vada pure Tu infatti sei mandato dal re, dai suoi sette consiglieri in Giuda e a Gerusalemme Per informarti come laggiù si è osservata la legge del tuo Dio, la quale è nelle tue mani E per portare l'argento e l'oro che re e i suoi consiglieri hanno volontariamente offerto al Dio di Israele La cui dimore è a Gerusalemme E tutto l'argento e l'oro che troverai in tutta la provincia di Babilonia E i doni volontari fatti dal popolo e dai sacerdoti per la casa del loro Dio a Gerusalemme Tu avrai quindi cura di comprare con questo denaro tori, montoni, agnelli E ciò che occorre per le relative oblazioni e libazioni E li offrirai sull'altare della casa del vostro Dio che è a Gerusalemme Dell'argento e dell'oro che avanzeranno farete tu e i tuoi fratelli quel che vi sembrerà meglio Conformandovi alla volontà del vostro Dio Quanto agli utensili che ti sono stati dati per il servizio della casa del tuo Dio Rimettili davanti al Dio di Gerusalemme Inoltre prenderai dal tesoro della casa reale Quello che ti servirà per qualunque altra spesa che dovrai fare per la casa del tuo Dio Io, il Re Arteserse, d'ordine a tutti i tesorieri d'oltrefiume di consegnare senza indugio a Esdra Sacerdote Scriba, esperto della legge del Dio del Cielo, tutto quello che vi chiederà Fino a cento talenti d'argento, a cento cori di grano, a cento batti di vino, a cento batti d'olio E una quantità illimitata di sale Tutto quello che è comandato dal Dio del Cielo si è puntualmente fatto per la casa del Dio del Cielo Perché infatti l'ira di Dio dovrebbe riversarsi sopra il regno sul re e sui suoi figli Vi facciamo inoltre sapere che non si possono esigere tributi o imposti o pedaggi Da nessuno dei sacerdoti dei leviti, dei cantori, dei portinari, dei netinei e dei servi di questa casa di Dio E tu, Esdra, secondo la saggezza di cui il tuo Dio ti ha dotato Stabilisci dei magistrati, dei giudici che amministrino la giustizia a tutto il popolo d'oltre il fiume E a tutti quelli che conoscono la legge del tuo Dio E voi, fatela conoscere a chi non la conosce Senza esitare, farete giustizia di chi non osserva la legge del tuo Dio o la legge del re E lo punirete con la morte, con l'esilio, con una multa o con il carcere Benedetto sia il Signore Dio dei nostri padri Che ha così disposto il cuore del re a onorare la casa del Signore a Gerusalemme E che mi ha procurato la benevolenza del re, dei suoi consiglieri, di tutti i suoi potenti capi Io, fortificato dalla mano del Signore, del mio Dio, che era sopra di me Radunai i capi di Israele perché partissero con me Grazie a tutti